ciao e benvenuto all'ascolto di questa nuova puntata del mio podcast dal titolo come trasformare le obiezioni in provvigioni allora diciamo che incontrare resistenze e ricevere obiezioni è normale per un agente immobiliare da più tempo sei in questo business e più avrai sentito le stesse obiezioni dai tuoi clienti nel corso del tempo avrai scoperto certamente che venditori acquirenti sembrano avere obiezioni simili perciò se hai le risposte giuste e sei pronto a darle potrai acquisire più incarichi e ricevere più proposte ammettiamo ogni giorno ci ritroviamo a negoziare le obiezioni che riceviamo da amici parenti conoscenti se vogliamo ottenere qualcosa in qualunque campo della nostra vita sociale lavorativo familiare dobbiamo imparare ad essere convincenti e a gestire le persone le obiezioni sai cosa sono sono semplicemente delle domande che ancora non hanno avuto una risposta gestire le obiezioni non è nient'altro che rispondere a queste domande in modo da motivare l'ascoltatore ad andare avanti nella trattativa ovviamente quindi come si fa a gestire le obiezioni quando le ricevi ecco alcuni suggerimenti che ti saranno molto utili e mentre li utilizzerai vedrai che riuscirai a risolvere molto meglio le resistenze da parte dei tuoi clienti primo suggerimento non reagire in modo eccessivo quando ricevi un'obiezione che cosa otterrai con una reazione esagerata niente piuttosto quando ricevi un'obiezione rispondi pronunciando una sola parola capisco questa parola è magica questa parola ti permetterà di mantenere le obiezioni nella giusta prospettiva mai interrompere un cliente mentre sta parlando peggio ancora terminare le sue frasi a nessuno di noi fa piacere essere interrotto lascia che i tuoi clienti finiscano di parlare poi fagli vedere le cose da un'altra prospettiva da un altro punto di vista prenditi il tempo di ascoltare pensare e poi dai la tua risposta mantenendo il controllo della conversazione secondo suggerimento aspetta sempre qualche secondo 5 10 secondi prima di reagire ad una domanda o a un'obiezione sforzati di fare una pausa prima di rispondere sarai sorpreso di quanti pensieri e idee innovative ti verranno in mente in così breve tempo inoltre la pausa serve anche a ridurre lo stress sia tuo che dei tuoi clienti terzo suggerimento quando rispondi alle obiezioni dai risposte semplici usa un linguaggio che i tuoi clienti possano capire la maggior parte delle persone apprezza una risposta diretta a una domanda o un'obiezione se giri intorno al discorso perderai credibilità e il tuo cliente perderà la pazienza credimi quarto suggerimento assicurati di rispondere a tutte le obiezioni ho stimato che il 50 per cento dei clienti si perdono a causa dell'incapacità degli agenti immobiliari di rispondere a tutte le loro obiezioni se i clienti cominciano chiedendoti molte cose facendoti molte obiezioni prendi appunti in modo da poter rispondere in seguito a ogni domanda e risolvere ogni problema infine mantieni il controllo della conversazione quando subiscono delle obiezioni gli agenti immobiliari tendono a perdere il controllo della conversazione sai già qual è il modo migliore per mantenere il controllo della conversazione fare domande fai domande chi domanda comanda diceva vera birkenbill quando ricevi un'obiezione tu rispondi con un'affermazione lo sai che cosa stai facendo stai letteralmente consegnando il timone della conversazione al tuo cliente mai rispondere ad una domanda o un'obiezione con un'affermazione ma sempre con un'altra domanda ad esempio se il venditore ti dice che ne so non voglio lasciarvi le chiavi di casa mia potresti rispondere semplicemente dicendo guardi senza lasciarci le chiavi si rischia di limitare il potenziale di vendita di oltre l'80 per cento poi chiedi vuole mettere questo tipo di limitazione alla vendita della sua casa in conclusione sai qual è il modo migliore per ridurre al minimo le obiezioni affinando la presentazione di vendita affinandola a tal punto che la maggior parte delle domande e obiezioni dei tuoi clienti trovino una risposta prima ancora che lui te le faccia ecco spero che i consigli che ho condiviso con te in questa nuova puntata del mio podcast ti siano veramente utili a gestire tutte le obiezioni se non dovessero esserlo ricordati che tu puoi scegliere i tuoi clienti almeno tanto quanto loro possono scegliere te puoi sempre dire di no non aver paura di rifiutare un cliente cattivo ti ringrazio del tempo che mi hai dedicato ascoltando questa nuova puntata e ti do appuntamento a breve per un'altra puntata ricca di spunti utili e interessanti ciao e grazie ancora